La cosa che mi aveva impressionato tantissimo è stato l'assedio di Sadanievo. Questo assedio che è durato tre anni e quando ha finito l'assedio hanno fatto, all'interno della città di Sadanievo, hanno fatto un'installazione che percorreva tutta l'area principale di Sadanievo, la piazza principale, riportando 11.541 serie rosse vuote. Nel silenzio tutto tale praticamente è stato un momento di forte pathos di ricordo di questi morti che ci sono stati. Poi ho ripreso delle foto di fotografi importanti che si trovano normalmente a documentazione della guerra, per esempio il concerto che è stato fatto durante i bombardamenti a Sadanievo, i cimiteri che hanno costruito sulle colline dove ci sono semplicemente, i morti non sono sotto lì ma sono dentro delle fosse comuni, però i cittadini praticamente che sono morti sono ricordati da queste stelle che sono, come vedete, coprono praticamente nelle colline terre. E quindi ecco, sono molto contento che la serie Anpi di Fermo prenda in carico questa storia, che poi secondo me è una che si è apposta nei libri di storia, perché sono quei momenti che veramente fa vedere quanto è piccola la nostra società, il nostro mondo, quindi il problema dei bambini, degli anziani e queste persone che non si possono difendere comunque. I giovani bene o male hanno un'arma, quindi possono morire o campare, ma c'è questa difesa del territorio, invece le mamme, i bambini, gli anziani sono quelli che di solito sono più forti.